Ciao a tutti da Diego di TecnoFanon.it e benvenuti in questo nuovo video. Oggi il protagonista di questa recensione è la nuova, nuovissima telecamera Aosu 3K Floodlight. È una telecamera davvero gigante, come potete vedere, ma è una telecamera che è una vera e propria luce di sorveglianza, ma anche una propria e vera telecamera, quindi è sia uno che l'altro. Tra l'altro, ok, viene collegata direttamente ai nostri cavi della luce esterna. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se noi abbiamo una lampada fuori, la smontiamo, cimentiamo questa, la colleghiamo con i tre cavetti terra, fase e neutro, e cosa succede? Succede che è già pronta per funzionare. All'interno della confezione troviamo tutto il kit per il collegamento e l'installazione, ma ve lo faccio vedere dopo, ma questa è come poi vedrete la telecamera montata al vostro muro. Ok, non è bellissima da vedere, questo lo sono il primo a dirlo, però, ragazzi, fa la sua porca figura, perché comunque quando poi la utilizzerete vi accorgerete che funziona davvero assai molto molto bene. Ha una risoluzione, come ho detto, che arriva fino a 3K, Wi-Fi molto molto potente, i due LED intervengono automaticamente grazie a questi tre sensori di presenza che abbiamo qua, che va a coprire praticamente quasi tutti i lati della telecamera, quindi basta che ci avviciniamo e lei si accende. Può essere utilizzata sia per luce di cortesia, sia per deterrente, perché comunque possiamo scegliere se attivare soltanto la luce oppure attivare anche la telecamera e quindi registrerà e manderà una notifica al nostro smartphone. Dotata di intelligenza artificiale, è in grado di riconoscere umani, auto, animali e anche di tenere sotto controllo una determinata area. Ad esempio noi facciamo un rettangolino nell'inquadratura e se qualcuno mette il becco lì dentro e inizia a suonare e a gridare come un'aquila. E chiaramente vi arriverà anche la notifica. C'è la possibilità anche di dialogare attraverso la telecamera, questa però diciamo non è la sua funzione principale. Ma adesso vi faccio vedere cosa offre la confezione, vi spiego anche brevemente come si installa. Tuttavia c'è un manuale molto molto completo, finalmente un bel manuale e niente ragazzi, giriamo l'inquadratura. Allora questo è tutto il contenuto della confezione. Questa è la piastra che andrà collegata al nostro muro. Troviamo i tasselli, troviamo le viti, troviamo tutto il necessario. Questa vita è oramai incastrata, ok, anche il tassellino è rimasto incastrato. Dove qua abbiamo la morsettiera, quindi i fili arrivano dal muro, li facciamo passare dentro a questo gommino in silicone che previene l'ingresso anche dell'acqua. Andiamo a collegarli qua e poi quando andremo ad installare la telecamera il resto lo andremo a collegare esattamente qua. C'è anche il fermacavo, quindi questa è la parte che andrà attaccata al muro. Poi abbiamo questa piastra che va collegata direttamente alla base della telecamera che ci dà la possibilità di installarla in due posizioni, o così, o in questo modo, oppure in questo modo. Ci sono poi questi tre fori, ok, che servono per far passare dentro i cavi. È un sistema molto sicuro perché previene assolutamente qualsiasi tipologia di ingresso di acqua. Poi, una volta che abbiamo installato la telecamera nella posizione in cui più ci pare, useremo questo perno per andare a fissarla alla nostra base, in questo caso. E anche qua, vedete, abbiamo questo gommino che andrà forato perché poi ci dà la possibilità di tapparlo, ok? Quindi, davvero, tutto il necessario lo troviamo. Abbiamo anche un cavetto USB, micro USB, USB TAPC, che serve la prima volta per l'installazione della telecamera, perché abbiamo la possibilità di alimentarla anche direttamente attraverso una porta USB di tipo C che troviamo esattamente qua sopra. e questo ci permette di effettuare già subito il collegamento con la nostra rete Wi-Fi, di fare delle prove e eventualmente anche di inserire una micro SD. L'applicazione è davvero molto molto semplice, tuttavia, tutti questi passaggi li trovate nel bellissimo manualissimo di istruzioni, dove trovate anche la lingua in italiano. C'è anche il nostro adesivino per avvisare che c'è una 24 su 7 controllo della proprietà e vedete qua, davvero, ragazzi, c'è tutto ed è davvero un manuale fatto benissimo. Adesso, vediamo come funziona. Andiamo adesso a conoscere da vicino l'applicazione. L'applicazione si chiama Aosu ed è disponibile sia per Android che per iOS ed è un'applicazione davvero molto molto semplice con un'interfaccia molto molto gradevole. Andiamo a far partire il live della telecamera. Vedete che in questo momento sta mostrando il feed live. Io ho la possibilità di ruotarla verso sinistra, verso destra. Possiamo abbassare l'inquadratura. Vedete, in questo caso. Chiaramente, come tutte le telecamere Wi-Fi, c'è un leggero ritardo dalla pressione al movimento, però devo dire che, diciamo, è tutto tranquillamente nella norma. La risoluzione è davvero spettacolare. Vi faccio vedere adesso dei video che ho registrato con anche il rilevamento del movimento della telecamera che praticamente va a inseguire l'eventuale soggetto. Come vedete, assolutamente è davvero molto precisa. Va leggermente a scatti, però, ragazzi, non è che può essere anche fluida. Non ha un gimbal, se così si può dire. Mentre questo è un video registrato di notte. Cosa succede? Attiva i fari in caso di bisogno, attiva i fari in modo davvero molto potente e si vede tranquillamente il viso della persona e va a illuminare anche tutta la zona. Arrivano fino a più di 15 metri di distanza. Devo dire che nel complesso la risoluzione video, le notifiche che ci arrivano e la qualità delle immagini è davvero di qualità elevata. Davvero molto soddisfatto, sono da questo punto di vista qua. Abbiamo poi anche la possibilità di fare determinate opzioni. Ad esempio, possiamo scegliere di attivare o disattivare l'inseguimento delle persone, nel caso che noi lo volessimo utilizzare oppure no. Abbiamo anche la possibilità di attivare la modalità crociera. Ovvero, cosa vuol dire? Vuol dire che ogni tanto lei parte, si fa un giro e va a controllare che ci sia tutto a posto. Questo diciamo anche per noi, per farci vedere se vogliamo vedere cosa sta succedendo, basterà premere il crociera e fa tutto da sola. Non serve che noi stiamo a toccare il tastino avanti e indietro. Un'altra cosa molto simpatica che fa veramente ridere, ma è alquanto inutile, è la possibilità di andare a parlare attraverso la telecamera utilizzando la modalità cambia voce. Praticamente, cosa succede? Adesso qua non si sente. Praticamente andrà a camuffare la vostra voce, tipo viene fuori la voce Ciao, sono il proprietario della casa, che cosa volete? E' una roba del genere, quindi per privacy, comunque è una roba che sinceramente mi fa ridere e devo dire che è molto bene. C'è qualche strafalcione per quanto riguarda le traduzioni, ad esempio piega oppure di più. Tuttavia, le impostazioni davvero sono poche, essenziali e soprattutto abbiamo la possibilità di passare da Ultra HD a SD. Non c'è una via di mezzo, mi sarei aspettato magari una via di mezzo. Nelle impostazioni abbiamo la possibilità di scegliere le impostazioni della luce, regolare la luminosità della luce e anche dei periodi di luce personalizzati. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci saranno dei periodi dove la luce si accenderà, quindi noi vogliamo che dalle 9 di sera alle 11 di sera rimane sempre accesa, beh, ecco, grazie a questa opzione la possiamo tenere accesa. Abbiamo poi la possibilità di scegliere tutti i rilevamenti intelligenti. Guardate qui quanti ce n'è. Abbiamo il rilevamento delle persone umane. L'intrusione in un'area, noi selezioniamo un'area se qualcuno arriva lì, si incavola e inizia a gridare. Rilevamento di veicoli, riconosce se un veicolo si sta muovendo oppure no. Il controllo di un parcheggio, avvisa e illumina la gente che si avvicina al parcheggio. Quindi questa è una cosa di cortesia perché arriviamo alla macchina, la luce si accende però non registra e non si incazza, non fa niente. E poi abbiamo anche il rilevamento degli animali. Quindi se passa un animale domestico, un cane, una volpe, un cinghiale o qualsiasi cosa, lui lo rileva e vi manderà una notifica. E devo dire che funziona davvero molto molto bene. Abbiamo la possibilità di utilizzare, come vi ho detto, la corciera automatica, le notifiche, eccetera eccetera, la luce di stato. Insomma tutte le opzioni ci sono per questa telecamera. E devo dire che ragazzi sono rimasto davvero super super soddisfatto. Siamo arrivati quindi alle conclusioni finali di questa telecamera Aosu Floodlight 3K. Adesso vi faccio vedere la scatola perché la telecamera l'ho montata e non la smonto assolutamente più. È un prodotto davvero molto molto completo. È un prodotto che se non siete in grado può necessitare di un intervento di un elettricista. Però se andate a sostituire una lampada che avete già fuori con questo prodotto assolutamente sono tre fili da collegare. Quindi non ci sono assolutamente minimamente dei problemi. Grazie all'intelligenza artificiale non sgarra un colpo. È in grado di riconoscere le persone, gli animali, le macchine e può essere piazzata per controllare praticamente tutta la nostra proprietà. Perché grazie anche a delle impostazioni nella applicazione lei ogni tanto si può fare un giro e quindi va a tenere sotto controllo tutta la nostra zona. L'ho trovata davvero molto molto performante. Tra l'altro l'applicazione è davvero molto bella e intuitiva anche se ogni tanto c'è qualche strafalcione per quanto riguarda la traduzione. Però devo dire che nel complesso i suoi 199 euro di prezzo di acquisto li vale decisamente tutti. È un prodotto che ha una buonissima copertura wifi, è un prodotto che ha una buonissima illuminazione ed è davvero molto comoda perché comunque si accende automaticamente al passaggio delle luci. Tra l'altro ha tre tipi di sensori di movimento in tre posizioni quindi becca in qualsiasi punto voi arriviate lui becca e tra l'altro sono anche regolabili. Devo dire che il prodotto l'ho trovato molto molto completo, molto molto maturo ed è davvero una soluzione molto molto sicura se volete tenere sotto controllo la vostra abitazione. Vi lascio il link per l'acquisto sotto alla descrizione del video vi ricordo che il prezzo è di 199 euro ma spesso e volentieri ci sono delle promozioni quindi il mio consiglio come sempre è quello di aggiungerlo nel carello e attendere chi arrivi magari una notifica con l'offerta in corso. Io vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao da Diego!